C'è l'amianto nella sede tua di Chieti, a dirlo il presidente del trasporto unico abruzzese Gianfranco Giuliante che ha spiegato perché proprio da oggi la sede teatina rimarrà chiusa e le funzioni saranno trasferite a Pescara. In riferimento alla situazione di Chieti sta semplicemente succedendo che c'è una sede non a norma in cui è stata individuata da parte dei tecnici la presenza di amianto e la mancanza di un impianto di dislavamento che rende di fatto non utilizzabile neanche il depuratore. Si tratta di un'area di 6.350 metri quadri di cui 2.100 coperti e 4.250 a parcheggio e dove lavorano 13 dipendenti. Motivazioni di tipo tecnico-giuridico e la somma della necessità di ripristinare condizioni di bilancio assettibile hanno creato le condizioni per le quali sostanzialmente si è decisa di comunicare, di sdettare il contratto di fitto. Tuà riferisce inoltre che col trasferimento sarà risparmiata una grande somma di denaro pubblico. Decine e decine di migliaia di euro l'anno finora sperperate. Oggettivamente 6.000 metri quadri tra interno ed esterno con una decina di persone che ci stanno dentro e una spesa di oltre 100.000 euro l'anno non hanno ragione di esistere. Sono anti-economiche e hanno problemi da un punto di vista della previsione di legge per questi tipi di attività.